E verrà come il sole che sorge al mattino Volerà come il vento che vola lontano Canterà, canterà come canta un bambino Correrà come chi vuole dirti è vicino Il Signore è qui Carissimi, ben ritrovati nel nostro appuntamento di spazio di spiritualità di rubrica di attualità religiosa in questo tempo, in questo secolo in questo millennio che è cominciato da poco e che, come ci diceva Giovanni Paolo II è veramente un cambio di paradigma personalmente il 2000 è stato l'anno del giubileo un anno che tra l'altro ci prepariamo a rivivere tra tre anni, due anni e mezzo nel 2025 saremo di nuovo coinvolti in questa avventura giubilare è stato veramente un anno di epocale di cambiamenti, di rinnovamenti anche se purtroppo sappiamo che la storia ripresenta a volte certe dinamiche che pensavamo oramai superate o tutto quello che era stato la seconda parte del 1900 con tutte le sue tensioni a partire dalla seconda guerra mondiale ma anche poi tutto quello che è stato appunto la storia del novecento europeo che pensavamo avesse insegnato qualcosa a questo vecchio continente lo vediamo un po' riproporre nell'attualità ma certamente ecco siamo invitati a affrontare ad accettare questo nuovo paradigma senza rimpianti senza voltarsi indietro come dice il libro nella Torah troviamo la storia di Lot il libro di Genesi e del suo andare o tornare da Sodoma ecco certamente anche per noi oggi viene provvidenziale uno sguardo sul tempo che viviamo come ci dicevamo anche la settimana scorsa con uno sguardo di speranza uno sguardo che possa essere capaci di vedere i segni i germi di un mondo nuovo di un rinnovamento anche quando sembra che il tempo si incubisca anche quando sembra che i segni i motivi di speranza non ci siano come dice la lettera agli ebrei Abramo guarda e spera oltre a ogni speranza al di là di ogni motivo umano di speranza c'è uno sguardo che veramente può essere rivolto con serenità verso il futuro e così anche noi tra l'altro intrapreso il cammino di preparazione alla Santa Pasqua anche liturgicamente la liturgia ci invita ad essere attenti a questo percorso di fatica verso una luce si fa fatica nella Quaresima tempo di penitenza cosiddetto tempo di conversione ma anche tempo di speranza uno sguardo verso verso la luce e una esperienza tipica di questo tempo liturgico è la meditazione sulla passione morte del Signore Gesù è una pia devozione un pio esercizio una preghiera tradizionale che troviamo raffigurata in tantissime chiese della nostra del nostro occidente in moltissime chiese parrocchiali troviamo le 14 stazioni della via Crucis è così detta poi sapete ci sono alcuni testi devozionali che si sono sviluppati negli ultimi decenni come la via Lucis la via Matris la via della risurrezione abbiamo tante vie che si sono aperte e inaugurate ma l'originale la radice di tutto questo è appunto quello che tradizionalmente vediamo raffigurato in 14 quadri che a volte sono anche raffigurati lungo in edicole per esempio lungo delle strade lungo delle vie anche di accesso ai santuari per esempio ma anche appunto dentro alle navate e all'aula di una chiesa parrocchiale spesso si trovano a volte stilizzate a volte riviste qualcuno di recente cercando di passare questo rito tradizionale anche alle giovani generazioni ha cominciato a manipolarlo a semplificare invece che 14 le stazioni diventano 6 o 7 perché magari si fa un percorso con i bambini o con i ragazzi qualcuno ha aggiunto altre stazioni come la quindicesima in cui in molte parrocchie si ricorda appunto il finale con con gioia della risurrezione ma ecco io direi è importante che prima di tutto prima di così inventare comunque adattare questa preghiera al tempo che si vive alla comunità nella quale siamo comprendessi sarebbe importante comprendere che cos'è che cos'è in fondo il cuore il centro di questa esperienza di preghiera un'esperienza che se vogliamo risale già alle meditazioni di Sant'Anselmo parlo del undicesimo secolo sulla passione morte di Gesù e sul suo valore salvifico cioè il fatto che Gesù di fronte alla radicalizzazione dello scontro con i farisei affronta quello che potremmo pensare uno scontro finale ma che in realtà è una festa finale perché l'ingresso a Gerusalemme viene salutato con segni messianici dalle folle e dai Vangeli stessi fino appunto ai complotti alle false testimonianze e quello che sappiamo appunto i Vangeli ci raccontano dell'accettare da parte di Gesù in quella notte drammatica che è la notte tra il giovedì e il venerdì che noi ricordiamo liturgicamente appunto nella notte tra il giovedì e il venerdì la notte dell'agonia cosiddetta del Getsemani quello che nei misteri del Rosario è il primo doloroso ecco quella notte certamente è descritta tra l'altro nei Vangeli con dovizie di particolari sappiamo dai Vangeli anche una preghiera che Gesù fa da solo nell'Orto degli Olivi quando comincia appunto ad affrontare questa sfida questa gone finale questa lotta contro il male che poi culminerà in quel tutto è compiuto sulla sulla croce quando emise lo spirito dice San Giovanni cioè quando di fatto dona al mondo un nuovo un nuovo spirito una nuova creazione e non a caso appunto proprio l'Evangelista Giovanni dipinge nella nella scena finale della crocifissione della morte di Gesù un quadro in cui c'è un dialogo tra di nuovo come nel principio alla Genesi c'è un dialogo tra un uomo e una donna e ci sono un nuovo Adamo e una nuova Eva dalle quali dai quali nasce una nuova umanità che è appunto la Chiesa così ci dice il prefazio della Beata Vergine Maria e tutto il dialogo tra Gesù e Maria è un dialogo che nel Vangelo di Giovanni certamente richiama questo orizzonte della nuova creazione ecco allora che cos'è questa via crucis cioè cosa significa ripercorrere le tappe della passione e morte e sepoltura di Gesù con la preghiera con un atteggiamento di devozione di di trasporto e di meditazione al tempo stesso in un certo senso noi partiamo dalla dalla meditazione che appunto Sant'Anselmo fa sul valore redentivo di liberazione diremmo noi in italiano redenzione è una parola che non sempre si comprende bene liberazione la liberazione dell'uomo dalla schiavitù del male del peccato e la morte di Gesù è certamente una liberazione fatta per eccesso per assurdo attraverso una soglia che non è una terapia semplice no non è una soluzione facile Gesù attraversa l'umiliazione della passione la morte la sofferenza il dolore e attraverso questo questa esperienza misteriosamente noi riceviamo un dono che è il dono della Pasqua certamente di questo passaggio Pasqua significa appunto passaggio da un orizzonte all'altro da un paradigma all'altro questo cambio di prospettiva che è proprio la consapevolezza che il male non ha l'ultima parola per poter vivere bene la Pasqua tradizionalmente i cristiani sono soliti durante il tempo della Quaresima meditare le tappe della Passione di Gesù tra l'altro in un modo abbastanza interessante la tradizione ha voluto presentare alcune scene della Passione morte del Signore che non sono neanche raffigurate nel Vangelo altre che vengono arricchite di particolari e di notazioni l'episodio più eclatante per chi conosce la Via Crucis è il personaggio della Veronica cosiddetta che letteralmente questo nome significa la vera immagine cos'è che cos'è questa questo episodio della Veronica è certamente è una tradizione che si sviluppa fin dai primi decenni del cristianesimo dell'immagine appunto del volto di Cristo che viene riprodotta su questo simil sudario perché appunto non è tanto il sudario della sepoltura ma la Veronica asciugando il volto di Gesù riporta questa immagine nel telo che poi a sua volta ha una tradizione iconografica molto importante con diverse radici diverse punti sorgivi che non possiamo certamente far risalire a un fatto solo a un personaggio solo a un telo solo ma ecco questa immagine del volto di Gesù che poi si è diffusa nei primi secoli del cristianesimo in un modo molto ampio con tante forme e riproduzioni è un piccolo esempio di quale ricchezza ci può portare la preghiera della via crucis rispetto a quella che è la meditazione dei Vangeli delle scritture in senso letterale quindi non tanto quello che è raccontato dai Vangeli riguardo alla passione all'agonia alla passione alla morte di Gesù ma ampliando ampliando l'orizzonte ecco questo è un punto secondo me importantissimo cioè pregare la via crucis non significa semplicemente rivivere la passione morte di Gesù ma rileggere questa esperienza questo evento della sofferenza della croce della morte di Gesù alla luce di tutta la sacra scrittura di tutta la storia della salvezza questo è quello che rende la via crucis una preghiera molto feconda anche per noi oggi anche per il tempo che viviamo perché se noi prendessimo semplicemente l'interpretazione appunto di Sant'Anselmo sul valore liberatorio della passione morte di Gesù prenderemo solo un pezzo la meditazione della via del dolore di Gesù non è solo limitata a questo gesto della redenzione della salvezza del sacrificio che Gesù fa di sé per la salvezza del mondo ma possiamo intravedere lungo tutte le tappe della via crucis la storia della salvezza in quanto tale da Abramo fino ad oggi tutta quella storia di amore misericordia peccato tradimento riconciliazione tutta la storia tra Dio e l'umanità la possiamo vedere alla luce di queste tappe che appunto non essendo semplicemente una rievocazione storica non avendo come scopo quello di renderci presenti ai fatti che si sono svolti durante la passione di Gesù ma avendo questo sguardo ampio su tutta la storia della salvezza ecco che allora capite il frutto della meditazione può essere molto più ricco molto più abbondante perché meditare la passione del Signore significa anche vivere l'esperienza della penitenza della conversione personale che cosa possiamo pensare cosa possiamo scorgere in questo percorso che Gesù fa dalla notte del Getsemani fino al Golgotha fino al giardino della sepoltura è un percorso che dalla notte va verso la luce che va verso la Pasqua che richiama proprio il nostro percorso personale di conversione che ogni quaresima siamo invitati a vivere e il Signore Gesù diventa come un compagno di viaggio in questo percorso perché attraverso la meditazione della dolore la via Doloris attraverso la meditazione delle parole di Gesù in questo gesto della passione e morte noi possiamo rendere presente e ravvivare questo senso della contrizione della compunzione del pentimento della conversione io penso che sia importante che ciascuno di noi viva personalmente questa contemplazione questa meditazione per poter comprendere qual è la chiamata della quaresima alla conversione senza una seria meditazione sulla via del dolore sulla croce di Gesù non c'è vera conversione non c'è vero pentimento e questo io dico sempre lo possiamo capire intuire anche in quella bellissima tradizione che vede i luoghi del sacramento della riconciliazione arricchiti di un crocifisso tradizionalmente nei confessionali quelli con la grata il crocifisso era proprio immediatamente sopra alla grata spesso corredato anche con la formula dell'atto di dolore che cos'è il pentimento il sacramento della penitenza cosiddetto la confessione quella che noi chiamiamo confessione se non una meditazione della morte di Gesù della sua croce capite se al centro della confessione ci sono io con il mio desiderio di correggermi di migliorarmi o anche solo i miei peccati non ho capito che cos'è la confessione non posso capire sperimentare perché al centro della confessione al centro della penitenza della conversione quindi anche di questo tempo della quaresima ci sta il dolore non tanto dei nostri peccati ma il dolore di Gesù il dolore della passione e morte di Gesù la croce di Gesù sono il vero senso della conversione e questo tradizionalmente lo si spiega il catechismo lo spiegava dicendo che le sofferenze di Cristo sono le conseguenze del mio peccato ma questo non accade in un modo meccanico o automatico possiamo capire che non parliamo semplicemente di una di una corrispondenza così appunto immediata non è così facile comprendere questa frase ma proprio a partire dalla contemplazione della sofferenza di Gesù e della sua morte e del suo liberamente offrirsi sull'altare della croce noi comprendiamo qual è l'atteggiamento di conversione di pentimento e così la figura delle donne che piangono è una figura che serve e che tra l'altro sono presentate anche nei brani evangelici a fare questo cambio di prospettiva non piangete su di me piangete su voi stesse il pianto sul Cristo morto è un pianto che dice il nostro desiderio e anche l'efficacia della nostra conversione ecco allora meditare la passione del Signore vedremo poi anche tutte le tappe che ci accompagnano a comprendere sempre meglio questa cosa significa abbracciare seriamente il tempo della penitenza il tempo della conversione il tempo della quaresima Ave Maria splendore del mattino puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore 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 Grazie a tutti.